Questa sera alla tappa di Ortona di Miss Adriatico vince Angelina Andreiana. Angelina, a chi radichi questa vittoria? In primis alla mia famiglia, ai miei amici e a mio nonno che purtroppo non c'è più, quindi va a lui. Quali sono le ambizioni e i sogni di Miss Adriatico Ortona? Per raggiungere i miei sogni, i miei obiettivi e diventare una modella su cui posso sfilare sulle passerelle più importanti. Con l'organizzatore della tappa di Ortona sulla passeggiata orientale, Domenico Dell'Orefice. Domenico, che serata è stata questa di Miss Adriatico? È stata una grandiosa serata di divertimento, bellissimo e un ringraziamento a voi per la magnifica serata, un ringraziamento a tutta la gente, i clienti che vengono nella mia gelateria, al mio staff che ha permesso tutto questo, quindi partendo da mia moglie, mia mamma, mio padre e tutto, i nostri colleghi che stanno da dentro a fuori e un ringraziamento a voi. Quindi soddisfatto della serata, ci appuntamentiamo anche per il prossimo anno? Assolutamente sì, al prossimo anno.